Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù apparvi agli undici e disse loro Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato Ma chi non crederà sarà condannato Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove Prenderanno in mano serpenti E se berranno qualche veleno non recherà loro danno Imporranno le mani ai malati e questi guariranno Proclamate il Vangelo ad ogni creatura Farete meraviglie e il Signore sarà con noi fino alla fine del mondo Ci accompagni Nella trasmissione della fede c'è sempre il Signore con noi Nella trasmissione dell'ideologia ci saranno i maestri Ma quando io ho un atteggiamento di fede che va trasmessa C'è il Signore lì che mi accompagna Mai nella trasmissione della fede sono solo È il Signore con me che trasmette la fede L'ho promesso io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo Preghiamo il Signore perché ci aiuti a vivere la nostra fede così Una fede da porte aperte Una fede trasparente Non proselettista Ma che faccia vedere ma io sono così E con questa sana curiosità aiuti alla gente a ricevere questo messaggio Che li salverà Grazie 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 Grazie